Dottoressa Roberta Bruzzone a Marsala per un seminario contro i rischi dei processi mediatici. Ci stiamo concentrando, lo faremo anche domani, su quelli che possono essere degli coefficienti di distorsione introdotti proprio dal modo in cui i media hanno di raccontare alcune vicende giudiziarie. A volte in maniera molto lontana da quello che poi è l'inchiesta e quello che poi sarà il processo. Quindi oggi cerchiamo un po' di mettere a segno una serie di aspetti proprio per evitare che vengano costruiti dei mostri da prima pagina che poi in realtà magari dalle corti di assise vengono assolti perché non hanno commesso il fatto. Ci sono tutta una serie di casi pratici che porteremo. Io parlerò oggi del caso di Serena Mollicone con la vicenda giudiziaria che inizialmente aveva puntato su un imputato, Carmine Belli, che poi è stato assolto con formula piena e che oggi invece, a mio modo di vedere, essendo consulente in parte accusatoria, ha puntato sugli imputati corretti. Per cui è una vicenda giudiziaria che merita di essere approfondita anche sotto questo profilo. E poi parlerò domani di un altro caso giudiziario recente, un ragazzo che abbiamo difeso con lo studio legale con cui lavoro e che abbiamo portato a una piena assoluzione quando a livello mediatico era stato ritenuto ampiamente colpevole di un omicidio che in realtà non è mai esistito perché abbiamo dimostrato che si è trattato di un tragico, ma pur sempre un incidente. Quindi il caso di Andrea Landolfi. E gli altri colleghi stanno parlando di vicende giudiziarie che hanno avuto grande risalto mediatico e che sono state raccontate a livello mediatico con qualche errore di troppo. Per cui è molto importante ragionare su questi aspetti perché il processo spesso o l'indagine stessa diventa la vera pena per chi è coinvolto, soprattutto quando è coinvolto un innocente. E molto spesso una volta che entri in quel tipo di trittacarne mediatico anche se poi viene assolto nelle debite sedi di fatto questa ombra di colpevolezza ti rimane sempre addosso. Quindi è molto importante riuscire a gestire nella maniera migliore possibile questo tipo di dati e fare in modo che a gestire questo tipo di informazioni siano dei professionisti reali. Non dei direttanti allo sbaraglio che creano false notizie e poi distruggono intere esistenze. Come si riabilita un mostro sbattuto in prima pagina che mostro non è? Il grosso problema è che non si riabilita perché abbiamo visto, l'abbiamo sperimentato con tutta una serie di vicende giudiziarie che si sono poi risolte in corte d'assise quindi nella sede naturale dove effettivamente le prove, se ci sono devono essere in qualche modo rappresentate con assoluzioni, con formula non piena di più che però a livello mediatico comunque hanno continuato a tradursi in tutta una serie di presunti dubbi sulla dinamica dell'assoluzione che in realtà non ci sono. Però ripeto, poi i media una volta che si affezionano al mostro in prima pagina in qualche modo cercano di farcelo restare in prima pagina. Insomma, quindi paradossalmente l'errore giudiziario è l'assoluzione del mostro non la sua condanna. Ecco, questo è un aspetto molto discutibile e molto pericoloso. A questo punto, dottoressa, sarebbe meglio non fare i processi mediatici? Non credo che sia possibile fermare il processo mediatico perché ormai questo tipo di informazione o comunque questo tipo di scenari raccolgono tantissimo interesse da parte dell'opinione pubblica quindi oggi pensare di sospendere i processi mediatici o quantomeno di parlare in tv di cronaca nera credo che sia in tv o su altre piattaforme credo che sia impossibile anche perché giustamente le persone devono essere informate ed è giusto farlo nella maniera corretta. Quello che bisogna evitare è di costruire dei colpevoli in maniera totalmente fasulla insomma solo perché ti porta a crescere lo share o a vendere qualche copia in più. Ecco, questo bisognerebbe evitare. Si può fare tranquillamente il processo mediatico insomma, anzi, credo che sia ormai una parte della partita da giocare, ma bisogna farlo seriamente e qui purtroppo si complica la questione. Direttore scientifico, nonché organizzatore del seminario di criminologia oggi a Marsala l'avvocato Giacomo Frazzitta. I temi del seminario? La contaminazione della scena del crimine però questo inquinamento non solamente va visto sotto il profilo proprio tecnico della scena cosiddetta del crimine ma anche sotto altri profili come contaminazione del testimone come contaminazione attraverso il populismo giudiziario. Sono tante le forme di contaminazione della scena del crimine che quindi rischiano sostanzialmente di dare una giustizia falsata. Sappiamo benissimo come è importante l'approccio dei protocolli nel rispetto laddove vi è una scena del crimine ma è altrettanto importante l'approccio che si ha nel rispetto delle garanzie costituzionali e del principio di non colpevolezza. Il populismo giudiziario sappiamo che è qualcosa che nasce spesso da condotte che abbiamo visto in questi anni venire fuori dalle conferenze stampa delle procure che nel porre in essere le ordinanze di custodia cautelare danno già per certi sostanzialmente i colpevoli quando ancora con l'ordinanza di misure cautelari siamo in una fase addirittura di indagine quindi ancora non vi è il contraddittorio non vi è la valutazione nel rispetto sostanzialmente anche di quelle che sono tutte le garanzie costituzionali che dovrà avvenire da lì a poco attraverso gli interrogatori attraverso il proseguimento del procedimento. Tutto questo certamente non solamente inquina la scena del crimine ma inquina anche la dignità di tutti coloro che nel processo sostanzialmente subiscono la pena perché il processo stesso spesso è la pena la sanzione talvolta non esiste, non arriva ma il soggetto attraverso il processo ha già subito una pena. Avvocato Frazzitta, oggi ospiti importanti? Beh, come ogni anno questo seminario è stato interrotto dalla pandemia abbiamo ripreso quest'anno, ne abbiamo fatti tre questo è il quarto e abbiamo ospiti sempre eccellenti oltre che il criminalista il dottor Armando Palmeggiani esperto anche di scientifica perché lavora per la polizia scientifica pure di Roma, abbiamo anche la dottoressa Valentina Marsella che ha pure fatto una relazione interessantissima sull'approccio al testimone e all'interrogatorio il giornalista investigativo Fabio San Vitale una genetista di fama europea che è la dottoressa Marina Baldi veramente una tra le più importanti e poi avremo e abbiamo anche la dottoressa Roberta Bruzzone criminologa di fama nazionale insieme domani a Luca Brezzigar che è responsabile presso l'Unione Camere Penali Italiane dell'Osservatorio Informazione Giudiziaria e anche il vice direttore di RAI 2 Milo Infante domani appunto con loro si tratterà in maniera più approfondita questo aspetto del populismo giudiziario abbiamo sempre tenuto molto alta la qualità dei relatori di questi seminari proprio per questo abbiamo avuto anche una sempre e quest'anno più di ogni altro anno una risposta di iscritti a questo seminario molto importante per cui crediamo che conoscere in maniera dettagliata i casi giudiziari e non solamente quelli che ascoltiamo dalla televisione i protocolli investigativi sia fondamentale non solamente per coloro i quali svolgono la funzione di forze dell'ordine o di criminologi ma anche e soprattutto per noi avvocati abbiamo sentito prima la dottoressa Bruzzone dire che è praticamente impossibile riabilitare un mostro che è finito in prima pagina su tutti i giornali o in tutti i processi mediatici che invece non lo era affatto per quanto riguarda la nostra giurisprudenza quali sono i processi che devono essere attivati in questo senso? Adesso recentemente è stata varata appunto una normativa sul principio di non colpevolezza molto importante e stringente per cui diciamo ci sono dei limiti importanti adesso soprattutto quando si emettono misure cautelari quindi nella fase delle indagini si pongono in essere provvedimenti di carcerazione quando ancora il procedimento è in divenire e questo è proprio collegato ad aver superato ogni limite attraverso una informazione forse troppo avida troppo avida di sangue troppo avida di colpevolisti e speriamo che anche questo genere di seminari svolga una funzione importante per migliorare il livello culturale di tutti gli operatori della giustizia